Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rende noto di aver avuto una telefonata significativa col suo omologo cinese Xi Jinping. Si tratta della prima telefonata tra i due dall'invasione russa dell'Ucraina. In un tweet Zelensky ha scritto di ritenere che la chiamata e la nomina di un ambasciatore ucraino in Cina avrebbe dato un potente impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali. Cina e Russia hanno rafforzato i rapporti da prima dell'invasione russa dell'Ucraina lo scorso anno. La spinta diplomatica è culminata con la visita di Xi a Mosca, durante la quale lui e Vladimir Putin hanno sottoscritto un accordo di cooperazione. Successivamente la Cina ha pubblicato un pieno di pace e si offerta di mediare tra i due paesi. Riferendosi alla telefonata, la TV di Stato cinese ha citato Xi, per il quale Pechino è sempre stata dalla parte della pace. Grazie. 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 Grazie.